Su sportsmall.it versioni tv youtube diamo spazio a Marcello Cicchitti, vicepresidente della FIT da Lombardia, quali le emozioni per una serata natalizia dove questo plesso che lei ha contribuito a mettere su in piedi che possa ospitare tutti i grandi personaggi dello sport lombardo. È stata sì, è un'occasione, un'occasione che si sta ripetendo perché è una tradizione che stiamo ripercorrendo anno per anno dopo la prima lezione del presidente del CONI in Lombardia Marzorati e quest'anno la stiamo tenendo qui in casa del tennis tavolo. Ne ho approfittato per far vedere e incontrare tutti i presidenti delle federazioni in questo centro che ho appena terminato di costruire, di realizzare. è il più grosso centro federale italiano, è il primo in Italia, insomma, quindi abbiamo quasi 500 iscritti qui all'interno ed è per noi almeno una cosa di onore, di piacere perché comunque vedere tutto lo sport qui radunato e riunito è per me e per il mondo di gioia. E soprattutto fa gli onori a uno sport nobile come il tennis tavolo. Nobile, è nobile, è nobile appena visto, forse prima che si è affacciato un cinese dietro di te che ha fatto una nuova via, la telecamera non l'ha ripreso, ma quello e quel cinese è nobile. Nel tennis tavolo la nobietà la vedi all'inizio della partita e alla fine, come nel tennis, quindi dalla stretta di mano all'inizio, alla stretta di mano alla fine. Nobili sono anche i giocatori che hanno rappresentato e che hanno portato avanti l'Italia in questi anni. Il maestro Yammin che oggi è qui, a capo di questo centro della federazione, è il maestro che è stato nazionale da noi in Italia, ci ha portato al terzo posto al mondo, lui diciottesimo al mondo, è stato, è quattro anni che ha smesso a quattro cinese a giocare, in maniera agonistica proprio, però ha una passione immensa e con me sta condividendo questa scommessa di far decollare il tennis tavolo in Italia e a Milano in particolare che è una bellissima città che può dare tanto soddisfazione. Possiamo sentire anche lui? Ah com'è? Per noi, senti, senti, no, è scappato via, niente, allora niente, allora lo ringraziamo comunque, ok, scusami, no, a questo punto un augurio per questo Natale per il 2015. Grazie, grazie a voi, spero che si possa ripetere questi momenti, si possa ripetere, si possa, grazie anche il vostro contributo, ecco, portare in giro questo messaggio del tennis tavolo che noi ci teniamo tantissimo. Grazie a voi, tanti auguri e a tutti, buon Natale. Grazie.